Si è concluso ieri il Memorial Bolognani, torneo di tennis di terza e quarta categoria che si è disputato sui campi del circolo tennis arco, registrando una buona affluenza con ben 150 iscritti nei due tabelloni. Nel torneo maschile ha vinto il quindicenne bresciano del circolo tennis gavardo Andrea Melisi, che ha dimostrato sul campo di essere in possesso di una grande irregolarità e di una mano eccellente. In finale ha superato, soffrendo solo nel secondo set, il parietà roveretano Ivan Martinelli, un prodotto dell'Accademia dei Fratelli Stoppini, giocatore potente e molto dotato fisicamente, ma con ancora molti margini di miglioramento. 6-2, 7-5, il risultato finale. Sarebbe stato interessante vedere all'opera l'ex seconda categoria Bernardo Bernardinelli, costretto a ritiro da un malanno fisico proprio nella semifinale con Martinelli. Tra le ragazze, la lotta in famiglia tra le due portacolori del CT Rung di Masoronco si è svolta con la vittoria di Santa Anna, che ha avuto la meglio al terzo set con l'amica Vicky Troker, apparsa stanca dopo l'impegnativa semifinale di sabato. Al termine la premiazione dei vincitori e la rivederci al prossimo anno. Anche se molti di questi ragazzi saranno protagonisti del torneo Open tradizionalmente in programma nel mese di luglio.